Nido pronto! Piccole in posizione! Nuovo caricatore! Un operatore alleato rimasto! Quindici secondi! Il tempo scade tra dieci secondi! Rimangono cinque secondi! Ultimo attaccante rimasto in vita! Il tempo non è stato raggiunto! Vene, vene, vene! 5 secondi all'inserimento procedere e disinnescare la bomba 5 secondi all'inserimento 6 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 secondi all'inserimento L'ultimo attaccante è rimasto in vita. Il dinamiscatore online è attivo. La squadra d'attacco ha eliminato i difensori. Il dìherà la squadra di l'attacco è rimasto in vita. Allora, siamo più in esplendita. L'attacco ha eliminato i difensori. Per quanto riguarda il ful common? Il che dopo è più importante è rimasto in vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.